Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video True Crime. Brandon Curie nasce nel 2003, figlio dell'uomo d'affari multimilionario James Curie. Il padre è proprietario della Curie Enterprise e CEO della FJ Holding, casa di produzione di carte da collezione, che lavora con grandi nomi come Amazon. Questa azienda si occupa di una grande varietà di carte, tra cui quelle dei Pokémon molto richieste, specialmente dal pubblico giovane. La Curie Enterprise è attiva in molti campi e James è stato spesso intervistato da testate specializzate e la sua attività usata come case study in quanto azienda americana che produce altissimi guadagni. Il profilo Instagram di James è pieno di foto delle sue macchine e di post in cui si vanta della sua fortuna. Ha quasi 2 milioni di follower, molti di questi lo considerano un modello da imitare, ma la verità su questo uomo d'affari di successo è molto più oscura di quanto sembra. Nel gennaio del 2019 e nell'agosto del 2021, James è stato arrestato per violenza domestica. Sembra che l'uomo creda che la sua disponibilità finanziaria e il suo status lo mettano al di sopra della legge, giustificando i suoi atti di violenza. E questa mentalità può avere influenzato il figlio Brandon più di quanto si possa immaginare. Padre e figlio sono molto legati e il ragazzo è la gioia e l'orgoglio dell'uomo d'affari. Ovviamente questo significa che anche Brandon è privilegiato, vive circondato dal lusso e ha uno stile di vita che ben pochi possono permettersi. All'inizio del 2021 Brandon passa l'esame di guida e ottiene la patente. Il suo padre lo premia con una nuova Lamborghini Urson, una vettura che è in grado di raggiungere le 60 miglia orarie in meno di 14 secondi. Forse non la migliore scelta per la prima macchina per un ragazzo minorenne neopatentato. Come ci si può immaginare, Brandon è più che curioso di provare la propria macchina e spingerla oltre il limite per vedere che velocità può realmente raggiungere. Il 17 febbraio del 2021, intorno alle 5 e un quarto, il ragazzo prende la macchina per fare un giro sull'Olympic Boulevard. Al posto del passeggero vi è la sua ragazza, curiosa quanto lui di provare la Lamborghini. Poco dopo, Brandon, che andava ai 120 miglia all'ora, si schianta contro una Lexus. L'impatto è così forte che la Lexus viene addirittura spezzata in due. Nell'abitacolo della macchina c'era Monique Munos, 32enne, che lavorava come receptionist nella zona. Monique era una ragazza con grandi piani, aveva appena finito l'università e si stava preparando per la scuola di legge. Purtroppo non ha potuto coronare il suo sogno. La giovane venne dichiarata morta. Le condizioni della macchina sono tali che è stato necessario tagliare le laminiere per poter estrarre il corpo. Le ferite di Brandon si rivelarono essere molto leggere. Venne trasportato in ospedale dove rimase per breve tempo. Una volta rimesso, tornò a casa. In una situazione normale, un ragazzino sconsiderato viene immediatamente arrestato. Ma per quale motivo Brandon non è stato arrestato sulla scena del crimine? I soldi del padre sono forse un buon motivo per la polizia per andarci piano? La morte di Monique portò a una mobilitazione pubblica, che richiedeva l'arresto del ragazzo. Nel momento che la polizia non aveva arrestato Brandon sulla scena, il caso fu affidato al procuratore distrettuale George Caskin, ma neanche lui lo portò avanti. Di lì a pochi giorni viene organizzata una fiaccolata per Monique, e una protesta a cui parteciparono moltissime persone, chiedendo alla polizia di arrestare il colpevole della morte della ragazza. La protesta assume una portata tale da attirare attenzione globale. L'attore di Star Trek, Will Wichen, condivise sui propri social un articolo sulla vicenda, per farla conoscere il più possibile. L'articolo parlava di come il milionario James Curie avesse usato i suoi soldi per coprire il figlio. Giorni dopo, nonostante ormai noto che la persona che aveva causato l'incidente fosse Brandon, e che suo padre avesse approfittato della sua influenza e dei suoi soldi per nascondere le tracce, nessuno si dichiarò in alcun modo colpevole. Il ragazzo venne anche visto in vari locali della città far festa. Sembrava che a uno di questi parti una persona lo abbia avvicinato, dandogli dell'assassino, e che in risposta Brandon gli abbia reso in faccia. Il padre, dal canto suo, non fece nulla, a parte cancellare commenti negativi sotto le sue foto di Instagram. Nel marzo del 2021, sembra che la giustizia si sia mossa a favore della famiglia Munos. Brandon è stato arrestato e accusato di omicidio stradale. Vennero presentate moltissime riprese di telecamera di sicurezza, che mostravano Brandon fare a gara con una Audi. Quando le immagini della scena del crimine vennero rese pubbliche, mostrando chiaramente la presenza di una terza macchina sul posto, la famiglia Curie negò fermamente che alcun altro fosse coinvolto. Le foto e le testimonianze però raccontavano una storia diversa. C'erano moltissimi testimoni al momento dell'incidente, visto che moltissime auto si trovavano sull'Olympic Boulevard quel pomeriggio. Tutti raccontarono la stessa storia. Due macchine, una Lamborghini e un'auto, stavano facendo una gara lungo la strada a una velocità pazzesca in pieno giorno. In breve tempo i social si rivoltarono allo stesso modo contro il padre James. Le persone cominciarono a scavare tra i suoi post. Non era solo un uomo d'affari ricco e potente, con precedenti per violenza domestica. Aveva anche usato più volte i suoi social per promuovere corse d'auto illegali. In un post James si era vantato di aver vinto una corsa con la sua Lamborghini, contro due motociclisti. Con un padre i cui social erano pieni di foto e frasi che promuovevano corse illegali, guida sotto sostanze e alcol, la non curanza delle regole e la sua convinzione di essere intoccabile grazie ai propri soldi, non è difficile credere che Brandon non mostrasse alcun rimorso all'idea di aver fatto fuori una persona. Nel mese di marzo, oltre a un mese dall'incidente, il ragazzo scrive sui social una lettera alla famiglia Mounos, scusandosi per la tragica perdita della loro figlia. Sembra che la famiglia sia pronta a prendersi le conseguenze delle proprie azioni. Nella primavera del 2021 Brandon si presenta all'udenza con la madre. Entrambi appaiono profondamente scossi mentre ascoltano i pubblici ministeri. Alla fine, il ragazzo si dichiarò colpevole per l'accaduto, chiese scusa alla famiglia di Monique e accettò la responsabilità per quello che aveva fatto. Ovviamente non è possibile sapere quanto Brandon provasse realmente i sentimenti che ha mostrato in aula e quanto lo abbia fatto solo nella speranza di ottenere la minor pena possibile. Nonostante il ragazzo si fosse dichiarato colpevole, le preoccupazioni della famiglia di Monique non erano che all'inizio. Brandon viene condannato ai domiciliari fino all'udenza successiva prevista per giugno. Una pena irrisoria, se pensiamo che equivalente a passare alcuni mesi in una casa gigantesca circondata dal lusso e da tutto quello che poteva desiderare in un periodo in cui, tra le altre cose, milioni di persone erano chiuse in casa a causa della pandemia. In preparazione dell'udenza di giugno, il procuratore disse che se il ragazzo fosse stato giudicato colpevole, avrebbe potuto subire una condanna tra l'uno e i sei anni. A giugno però il caso sembra giunto a un punto morto, dal momento che non ci sono notizie dell'udienza. Che cosa è successo? L'opinione pubblica cominciava a domandarsi se il ragazzo avrebbe realmente mai passato del tempo in prigione o se il padre si fosse mosso nuovamente usando i suoi soldi. Finalmente, a ottobre, arrivano notizie della sentenza di Brandon. Il 21 ottobre, infatti, il ragazzo inizia il suo periodo di detenzione. Tuttavia, i legali della famiglia chiesero che il loro cliente passasse la maggior parte della sua condanna, 4 anni, in libertà vigilata presso la villa di famiglia, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La sentenza, come potete immaginare, indigna l'opinione pubblica e la famiglia di Monique, mentre nuove informazioni vengono rivelate. Mark Wexman, uno dei legali di Brandon, disse che in seguito all'incidente al ragazzo erano stati diagnosticati danni celebrali, autismo, depressione e disturbo dell'attenzione. Tuttavia, l'autismo non compare dopo un danno celebrale e, stando a tutte le perizie, comprese quella dell'ospedale, le ferite che Brandon si era procurato durante l'incidente erano di lieve entità. La psicologa, Karen Shells, testimoniò davanti alla Corte Superiore di Los Angeles che probabilmente il ragazzo era stato affetto da autismo tutta la vita, ma non gli era mai stato diagnosticato. La dottoressa aggiunse che Brandon sarebbe probabilmente stato bullizzato se fosse stato rinchiuso in riformatorio. In breve, la sua patologia lo proteggeva dalla prigione. L'opinione pubblica però non era convinta, ritenendo che potesse trattarsi di un altro piano del padre James che poteva aver pagato profumatamente chi di dovere per tenere il figlio al sicuro. Le indagini portarono gli inquirenti a scoprire che Brandon aveva già avuto rapporti con la polizia in seguito a una bravata alla guida della macchina, anche prima che il ragazzo ottenesse la patente ed era proprio per questo che il pubblico ministero aveva fatto il possibile perché il ragazzo venisse spedito al riformatorio. Nel corso dell'ultimo anno, sembra che James abbia cercato più volte di trovare un accordo con la famiglia Munoz al di fuori della Corte, prendo una ragguardevole, anche se non nota, cifra di denaro. La famiglia di Monique, dal canto suo, sta continuando a chiedere che Brandon paghi realmente per il suo crimine, ritenendo che 4 anni agli arresti domiciliari in una casa enorme di lusso siano una pena assurda per quello che il giovane aveva fatto. Eccoci arrivati così anche alla fine del video di oggi. Che cosa ne pensate? Personalmente sono molto arrabbiato per la mancanza di rispetto per la vita umana e sono dell'idea che i soldi non possono fare la differenza. Trovo alquanto offensivo il fatto che James abbia anche potuto pensare che una famiglia come quella di Monique avesse potuto accettare una somma di denaro per la morte della propria figlia. Ad ogni modo, questa è la mia opinione, sono curiosissimo di sentire anche la vostra e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba, ciao! Ciao!